Una piccola oasi di pace tra la strada ferrata e la tangenziale che i cittadini che vivono in via Peano vogliono a tutti i costi mantenere. Bene il sottopasso di via Bezzecca, l'apertura ha aiutato tutto il quartiere. Peccato che manchi la segnalazione di strada chiusa per via Peano e per questo qualcuno, nonostante il rischio sanzione, ha fatto da sé. Lungo questa via entravano tantissime macchine, a parte sbagliavano strada perché non c'era nessuna indicazione e poi ce le ritrovavamo tutti qua concentrati. Perché è un vicolo cieco. È un vicolo cieco naturalmente e quindi creava tanto disturbo a chi ci abita. E non c'è una segnaletica come lei? No, non c'era e non c'è. Quando è stata cambiata la viabilità di via Peano sono entravano macchine anche a velocità, cosa che noi non siamo abituati a fare, per poi arrivare in fondo, girarsi, tornare indietro e anche guardandoci male perché avevano sbagliato strada. Disagio anche per gli animali che vivono nel borgo e non solo quelli domestici. Questo è un piccolo quartiere e tutti quanti abbiamo degli animali. È stato investito un gatto di nostra proprietà, è stato abbandonato lungo il ciglio ed è morto. Ma questa zona è ricca anche di ricci, abbiamo visto gli scogliattoli, ci sono le lucciole, quindi è proprio un habitat che deve essere mantenuto. Precisa la richiesta alla Giunta Giordani, a cui i cittadini chiedono diritto di partecipazione. Noi dal Comune ci aspettiamo un certo riguardo e un certo confronto con noi. Non è giusto che loro facciano tutto quello che vogliono fare senza consultare chi abita qua. In effetti è un piccolo centro, noi qua ci conosciamo tutti ed è giusto che il Comune venga a confrontarsi con noi.